ok, rifacciamo velocemente il giro di modellazione della casetta vedete che ho un cubo vado in edit mode con il tab seleziono la faccia e quindi proseguo con tutta estrusione e vado su un pochino e poi qui vado su ancora un pochino per fare il tetto e poi facciamo SY per fare proprio questo tetto ok, dopodiché prendiamo questa faccia e questa faccia, la estrudiamo e poi prendiamo solo questa faccia e la abbassiamo ok, dopodiché l'ultima cosa che abbiamo fatto è stata quella di prendere queste due facce SHIFT e estrudiamo anche queste sia di qua che di qua estrusione ok, e così abbiamo fatto in pochi secondi quello che abbiamo visto nel video precedente allora dopo aver modellato la casetta aggiungiamo qualche altro trucchetto intanto ricordiamoci che se ad esempio come in questo caso sono su Mac mi conviene fare emulet in un pad nell'interfaccia eventualmente anche emulet 3 button mouse nell'interfaccia mi conviene mettere Rotate Around Selection e poi una cosa che non abbiamo visto nei temi possiamo selezionare una vedete, qui abbiamo un Blender 24 ad esempio che è una modalità per vedere il nostro schema un pochino più chiaro oppure chi lo volesse tutto scuro può scegliere il Back to Black quindi è tutto scuro oppure torniamo altri intermedi ma prendiamo Blender 24x salviamo Save User Settings così la prossima volta se lo ricorda e così vedete che si vede più chiaramente qui è un po' confuso quando progettiamo perché abbiamo il pavimento che in questo caso non ci serve a molto per togliere un po' di cose possiamo andare sul display qui c'è una delle opzioni è il display e nel display possiamo dirgli di non far vedere per esempio il pavimento possiamo dire di non far vedere la X e la Y e quindi abbiamo un primo diciamo semplificazione in più possiamo anche dirgli di vedere dunque se facciamo così su In Edit Mode vedete che abbiamo oltre le normali che abbiamo visto qualche settimana fa abbiamo la possibilità di vedere le lunghezze delle singole linee che stiamo dipingendo così ci rendiamo conto delle dimensioni che abbiamo quindi questo è diciamo i piccoli trucchi per quest'altro piccolo segmento ok un'altra impostazione che si può fare è quella di mettere l'ambiente occlusion che permette di vedere un po' meglio dove ci sono le estrusioni vedete che qua è un po' difficile facciamo quindi quindi qui sempre sullo shading facciamo Unmet Occlusion ok poi se vediamo il nostro oggetto in Edit Mode vedete che adesso comparino le lunghezze di tutti i segmenti ma se noi lo vediamo da 3 quindi di lato vedete che vediamo tutte le linee quadrettate se per caso le linee quadrettate ci danno fastidio possiamo ridurre i quadretti qua vedete che qui c'è una scala 1 ogni 1 metro e noi possiamo mettere la suddivisione anziché 10 metro in dividerla in 10 in 10 volte possiamo mettere 2 in modo tale di avere una quadrettata più semplice questo se vediamo in z ci permette di capirsi un pochino di più ora non so se l'ho detto prima ma comunque qui abbiamo la lunghezza in metri ok quindi abbiamo selezionato questa lunghezza se vogliamo rendere questa casa diciamo un pochino più più corretta quindi non 2 metri per 2 ma sarà probabilmente un pochino più larga e un pochino più alta perché 2 metri sono un po' bassini quindi la vediamo in vediamo di qua e selezioniamo sempre in edit mode facciamo B e selezioniamo fondamentalmente il nostro anzi facciamo che selezionare i punti i vertici quindi selezioniamo questi e li allarghiamo in modo tale che sia un pochino di più ok quindi per esempio la portiamo su torno ai 4 metri e mezzo e a questo punto poi dobbiamo anche aggiustare il tetto in modo tale che si centri più o meno e probabilmente dobbiamo anche spostare questo in modo tale che sia un pochino più più largo quindi che sia tipo almeno 2 metri qua ma soprattutto alzarla un po' facciamo la alziamo un po' vedete che era alto solo 2 metri e la portiamo un pochetto di più quindi la portiamo qua e magari anche l'intero tetto la possiamo alzare ok quindi qui abbiamo questo che possiamo alzare leggermente poi selezionando anche questo lo possiamo rendere leggermente più realistico ok ora ah sì abbiamo visto anche l'altra volta che potevamo selezionare le quindi la base possiamo renderla ovviamente più più profonda perché adesso vediamo che è scarsamente profonda quindi basterebbe selezionare tutta la parte di dietro così e la portiamo profonda per esempio 6-7 metri ok e qui possiamo anche avere un'idea di quanto quanto le sporgenze stanno effettivamente sporgendo perché se vedete cliccando questa faccia ci dice di quanto sta sporgendo e cioè di 24 cm vedete ok comunque questo qui dà un po' l'idea di come possiamo farla quindi facciamo A B selezioniamo per dire queste facce se vogliamo farla sporgere un po' di più trunzeta vertici ok questi vertici facciamo sporgere mezzo metro ad esempio piuttosto che 0-30 ok quindi vedete che sporge un po' di più e la stessa cosa la possiamo fare per per questa faccia ecco e così sporgono di queste dimensioni ok z per rivederlo ora qui la cosa che viene consigliata a questo punto è di aggiungere un po' di edge loop e come lo facciamo questo facciamo col nostro amico ctrl r quindi ctrl r aggiungiamo degli edge loop qua fondamentalmente aggiungeremo alcuni edge loop lungo tutta la orizzontale e alcuni edge loop da queste parti ok quindi cominciamo con fare un ctrl r ok clicco e poi lo sposto mettiamo un po' sulla sinistra facciamo ctrl r clicco e lo sposto più o meno sulla destra ok poi facciamo ancora ctrl r qui per metterne uno per metterne uno più o meno da una parte ctrl r lo mettiamo qua e eventualmente facciamo poi ctrl r e ne mettiamo mettiamo ancora in mezzo dunque qua e poi ancora gli mettiamo uno orizzontale quindi ctrl r mettiamo uno più o meno sopra e ctrl r uno più o meno sotto ok così abbiamo aggiunto tutti un po' di geometria andiamo a vedere abbiamo centocinquanta vertici e a questo punto siamo pronti per fare i fori che sarà l'oggetto del prossimo spezzone allora adesso per mettere le porte le finestre lo faremo vedere tutto qui su blender dobbiamo semplicemente forare quindi adesso usciamo dall'edit mode quindi abbiamo la nostra casa e poi su questa casa ci costruiamo quindi facciamo shift a e ci costruiamo inizialmente un cubo e questo cubo diciamo che potrebbe essere un qualche cosa che taglia quindi che può farci la nostra una porta che vogliamo mettere qua allora la porta innanzitutto mettiamo le scale quindi sulla x la profondità lo mettiamo per dire mezzo metro 0,5 ok ma possiamo anche metterlo vabbè mezzo metro potrebbe bastare sulla y lo facciamo lungo e anche mezzo metro porta larga mezzo metro forse è poco mettiamo 0,70 e soprattutto poi lungo la la z la facciamo e con una porta potrebbe essere più o meno 2 ma teniamola così per un momento allora mettiamo il nostro oggetto lo mettiamo sulla nostra casa ok allora la casa mettiamo in modo tale che proprio si infili dentro la casa si infili bene ok quindi la porta la mettiamo centrata sul davanti e poi andiamo in tab mode in modo tale da vedere come si come si dispone ora ora questo è il primo esempio di porta vogliamo mettere per dire delle delle finestre o se no facciamo subito che fare anche l'altra porta quindi questa la facciamo un pochino più bassa con shift mentre siamo in edit mode facciamo shift d y e la spostiamo per fare una porta che mettiamo poi possiamo comporre dunque abbiamo una finestra due finestrelle laterali qua che possiamo ottenere anche qui facendo shift d e spostando con la y lo mettiamo a fianco e poi ci mettiamo frontalmente in edit mode a e selezioniamo solo la base di questo oggetto quindi facciamo quindi right orto facciamo b selezioniamo la parte di sotto un garicolo z quindi b ecco e la facciamo più o meno così questa è una finestra laterale l per selezionare tutta questa finestra shift d e poi y ce la spostiamo sulla destra ok poi sopra ci mettiamo anche qui possiamo metterci una serie di finestre quindi possiamo fare shift d z ok a b ci prendiamo questa la facciamo qua qui facciamo un sistema di finestre per dire vedete che sta delineandosi questo sistema e poi prendiamo ancora facciamo a l prendiamo questa finestra shift d e la mettiamo qua mettiamo due finestrelle qua magari questa facciamo rimpiccioliamo un pochino quindi s e poi qui possiamo fare anche shift x vedete che è la coordinata che non è presente in basso a sinistra shift x e permette praticamente di ridurla solo su questo piano ok e poi facciamo shift d y e la mettiamo praticamente un'altra finestrella là perfetto altre finestre che possiamo mettere sono possiamo prendere questa porta e metterla anche sul retro una di queste porte facciamo a l shift d e la mettiamo x la spostiamo in fondo dall'altra parte facciamo z vedete dov'è ok quindi la porta vedete che è esattamente dall'altra parte gli mettiamo dall'altra parte anche alcune finestre per esempio facciamo l questa shift d x no x e la spostiamo da questa parte ecco possiamo farla anche un pochino diversa per esempio qua poi facciamo prendiamo abbiamo messo le finestre qua ma non sporgevano quindi le selezioniamo l l z e le facciamo sporgere qua ok e in più e in più facciamo shift d x e le spostiamo dall'altra parte quindi qui abbiamo fatto fondamentalmente due finestrelle che si allargano lì qui possiamo l fare una finestrotta anche qua quindi shift d y finestra qua che magari allarghiamo un po' quindi z a b ok e poi questa finestra possiamo metterla anche laterale qua quindi la facciamo l shift d la duplichiamo ok tentiamo di ruotarla tra l'unasse z ai 90 gradi quindi r z 90 ok z per vederla quando ecco la mettiamo qua e poi cercheremo a magari selezioniamo la faccia questa di espanderla in modo tale che qui ci sia un sistema di finestre e analogamente la stessa cosa faremo l shift d y facciamo sporgere queste finestre dall'altra parte ok quindi così abbiamo fatto tutto magari qui possiamo anche fare una cosa leggermente diversa selezioniamo una faccia questa l shift d x qui possiamo mettere due finestre nonziché una lunga e magari ok un pochino più corte ok allora questo qui è il punto critico cioè di riuscire a creare tutte le cose che ci taglieranno il nostro oggetto ora prima di andare avanti solo una cosa intanto salvatevi ogni tanto anche dove siete quindi facciamo save as facciamo casa modeling prima fori due ok ecco tutti questi oggetti se avete notato li abbiamo fatti in modalità edit mode quindi vuol dire che a questo punto questi fanno parte di un unico componente che si chiama cube 001 allora qui per semplicità la casa gli diamo un nome e dunque il nome lo troviamo sia qua su questa costola di destra descritto cube oppure anche qua su questo in questo posto qui forse il più semplice da accedere questa la chiamiamo casa vedete che qui ci dice che è la casa e anche qua ha cambiato casa e poi possiamo selezionare invece il nostro le nostre porte finestre e questo lo chiamiamo taglio taglio perché lo vogliamo usare per tagliare per ritagliare la casa in modo tale che abbia i fori possiamo anche chiamarlo fori se vi viene meglio ok allora una volta fatto questa cosa si può provare tentare di procedere però prima selezioniamo la casa andiamo in edit mode ecco dobbiamo accertarci che i fori non collimino esattamente con delle edge loop già presenti perché abbiamo notato che quando una delle facce arrivi esattamente su una linea di frontiera possono capitare dei problemi ecco l'unico problema forse è su questo su questa finestra quindi adesso facciamo tab questo tab l per selezionare l per selezionare solo questa finestra spostiamo leggermente a sinistra e poi riverifichiamo ma non abbiamo spostato abbastanza un pochetto ok quindi qui se non ho derrato adesso c'è un pochino di differenza comunque lo vediamo nel momento in cui ritaglieremo i fori vedremo se abbiamo fatto giusto o meno ok allora adesso procediamo al taglio quindi per fare il taglio bisogna andare in object mode si seleziona la casa e si aggiunge il modificatore booleano specificando come oggetto i fori e poi come operazione la differenza ok allora se se tutto è in regola dico se non abbiamo fatto errori facendo l'apply ok e poi selezionando il nostro cutter cioè i nostri i nostri fori se li possiamo muovere vedete che muovendoli i fori hanno lasciato praticamente le loro impronte quindi abbiamo scolpito sulla casa fondamentalmente le posizioni in cui andranno messe le porte e le finestre e questo è già un buon punto di partenza questo cutter che abbiamo poi possiamo anche rimuoverlo quindi object mode delete ok fn delete su mac perché interessato delete e quindi noi abbiamo la nostra casa pronta e questo per il momento è tutto per la per questa prima sezione della casa prossimamente vedremo come riempire le cose dentro quindi metteremo dentro la porta un'intellaiatura di porta dentro le finestre un'intellaiatura di finestra e soprattutto una cosa interessante vedremo come si fa a texturizzare almeno inizialmente questa cosa di un'intellaiatura di finestra di un'intellaiatura di finestra di un'intellaiatura di finestra